ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video oggi vi presento il nuovo rompicapo e vi dico subito che al termine della presentazione vi dirò anche chi sono i tre vincitori dell'ultimo rompicapo più il quarto vincitore ovvero colui che è stato estratto fra tutti quelli che hanno partecipato vi ringrazio perché state partecipando veramente in tanti e quindi insomma mi fate capire che questa cosa vi piace e io ovviamente ne sono molto contenta allora passiamo alla presentazione di questo rompicapo che chi mi segue da diverso tempo ha già visto qualcosa del genere quando facevo la chips challenge allora vedete che abbiamo qui una tabella con scritte delle carte in orizzontale sono 13 carte ok poi qua abbiamo altre 13 carte che dovete collocare all'interno della tabella ma in verticale e la regola è che ogni carta deve avere almeno due lettere in comune con quelle in orizzontale vi faccio un esempio ad esempio che ne so il 4 di picche potrebbe tranquillamente collocarsi qui quindi 4 di picche oppure qua vedete 4 di picche però avrebbe una sola lettera in comune la e finale non va bene perché deve averne almeno due vi ho fatto un esempio per una carta ho scelto proprio la prima 6 di cuori ecco il 6 di cuori va collocato qui vedete 6 di cuori due lettere in comune per rispondermi potete utilizzare modi diversi allora o prendete un foglio a quadretti e vi ricopiate paro paro tutto ciò ok vi ho lasciato anche i numerini dall'1 al 35 di larghezza e da 1 a 36 di lunghezza così appunto per facilitarvi dove collocare le carte perché se sbagliate di un quadretto sbagliate tutto è quindi o vi ricopiate tutto scrivendo anche le carte in verticale oppure che ne so potete stamparvi questa immagine scrivendo solamente le carte in verticale oppure ancora potete semplicemente scrivermi la coordinata diciamo così per coordinata intendo che ne so ad esempio la coordinata del 6 di picche e scusate il 6 di cuori è 1 35 capito quindi per ogni carta mi scrivete la coordinata insomma fate voi come come preferite e vedete che qua c'è anche un punto di domanda perché perché ho deciso di permettere un po di pepe al rompicappo di farvela indovinare questa carta qua infatti rappresenta una carta misteriosa che dovete capire voi qual è ok comunque niente di difficile bene se avete domande fatemele pure nei commenti cosa vi posso dire beh è abbastanza sottinteso però chiaramente non potete uscire dalle linee verdi ok adesso volevo farvi un esempio ma che ne so tipo due di fiori potreste scriverlo qui utilizzando la i finale ma chiaramente andreste fuori dalla dalla tabella vabbè ma che ve lo dico a fare era troppo scontato questo ci arriva anche mia nonna credo e basta allora io andrei ora a annunciarvi i vincitori aspetta un attimo che inquadro da un'altra parte e nascondo il quarto vincitore ok allora questi tre li ho già annunciati su instagram sulle storie sono i vincitori quelli che hanno risposto per primi adesso ho scritto male perché ho scritto veloce scrivo meglio di così è allora la terza che mi ha risposto è stata daniela cammarata complimenti daniela il secondo pexandre 77 bravo andrea presumo ti chiami e il primo è stato it's me mario che è lo stesso che è arrivato terzo al primo rompicapo quindi il che mi fa pensare che sia davvero uno veramente molto molto bravo che vi darà del filo da torcere anche per questo indovinello qua e andiamo a scoprire chi è il quarto il quarto è santo di marco barra santinos magic questo perché sapete che abbiamo due nomi diversi uno sul profilo e uno in direct io li ho scritti entrambi per par condicio molto bene santo di marco scrivemi su instagram per dirmi quale gioco mio vuoi mentre tutti gli altri tre me l'hanno già comunicato bene penso di avervi detto tutto in bocca al lupo con questo gioco vi lascio magari in descrizione anche nel primo commento la la foto bella chiara di tutto quello che vi serve noi ci vediamo presto con i vincitori di questo rompicapo e magari prima anche metterò che ne so un tutorial di un gioco con le carte magari già da domani o fra un paio di giorni ok bene vi saluto vi ringrazio e in bocca al lupo per questo rompicapo ciao